Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Grazie.